Oioho, ciao a tutti ragazzi, io sono Versus, che ho in turno di te e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Dalla A alla Z. L'ultima volta ci siamo fermati alla G, poco prima di questo mazzo in realtà, perché noi ci siamo fermati a Galatoria e Bestia, e siamo fermati quindi prima delle divinità. Non abbiamo trattato fino ad ora le divinità egizie, e quindi, come le cerco con attributo divino? Io, sono fortissimo. Allora, divinità egizie, difficile recensirle, per quale motivo? Perché non sono mai state meta. Partiamo da questo presupposto. A parte Slifer, ogni tanto usato in ABC, a caso, e vabbè, è il dragolatore della modalità sfera che vabbè. Ecco appunto, per quello che è utilizzato, insomma. C'è il meme che gira dal 2018, tipo di una board di tre todali tributata da dragolatori della modalità sfera, quindi va bene tutto. Vabbè, comunque sapete già che, dal punto di vista competitivo, prenderanno un voto bassissimo. Però, dal punto di vista dello stile di gioco e dal punto di vista degli artwork, c'è da parlarne. Perché hanno avuto un'importanza fondamentale nella prima serie, assolutamente, e anche GX hanno avuto una loro pseudoimportanza. Perché comunque, diciamo che sono state le bestie che hanno dato là per creare la loro versione di GX, che sono Amon, Raviel e Uria, appunto. Le divinità, quindi, sono molto interessanti dal punto di vista dello stile di gioco. Sono dei boss monster giganteschi che, secondo la storia del gioco, sono delle cose che non devono essere replicate, che sono inarrestabili, non si possono fermare. Poi c'è tutta la storia delle divinità che non si possono giocare nel duello. Infatti hanno fatto poi successivamente le divinità che non si possono giocare, con il retro blu, giallo e rosso. Devo dire che sono veramente, veramente molto, molto, molto carine. È un'idea molto simpatica che fosse stata resa interessante dal punto di vista del gioco cartaceo, sarebbe stato pure divertente, sarebbe stato pure bella come cosa. Però, purtroppo, non hanno retto. Il più forte è, assolutamente, secondo me, Obelisk, come divinità a sé stante, però quella che ha più supporto è Dragolato di Ra. Dragolato di Ra che è, secondo molti, la divinità più bella. Posso condividere come no, però se andiamo a prendere tutti gli artwork, onestamente, secondo me, quest'artwork del Dragolato di Ra è, tipo, in paragonale. Cioè, è bellissimo quest'artwork del Dragolato di Ra, un giorno la prenderò, perché è veramente tanto bello. Detto questo, comunque, parliamo di delle carte che, comunque, non sono nulla di che, dal punto di vista dello stile di gioco. Evochi tramite tributo, utilizzando tre mostri come tributo. Loro hanno, diciamo, creato un po' quest'idea da quando si era piccoli che i mostri di livello 9, 10, 11, 12 avessero bisogno di tre mostri da offrire come tributo per essere evocati, insomma. Colpa loro, però vabbè. Per quanto riguarda, invece, gli artwork, vi ho già detto, Dragolato di Ra come artwork nuovo, ovviamente, il terzo appena uscito, è bellissimo. Direi il più bello, secondo me, è Slifer, però l'artwork... Questo artwork di Slifer è veramente carino, questo è molto bello. L'originale è ok, ci sta, è degli originali l'artwork che mi piace di più. Obvious che è quello che forse mi piace un po' di meno, a parte per questo artwork qui, che è veramente molto carino. Però, ragazzi, la mia divinità egizia preferita è Ra in questa versione, è veramente fantastica. Anche questa non è mica male. Questa qua è orribile, secondo me. Questa qua è veramente carina. Questa è, tipo, sborra, bellissimo. Dal punto di vista, quindi, della competitività, purtroppo, ragazzi, gli do un 1. Perché non sono competitivi. Oddio, c'è il Dragolato di Ra in modalità Sfera. Facciamo 2, giusto perché sta... Dove fare 10 minuti dopo il Mock. Per quanto riguarda lo stile di gioco, non mi sono mai interessato a fare un mazzo su queste bestie. Quindi, onestamente, non mi fa impazzire troppo. Un 3 dal punto di vista dello stile di gioco. Dal punto di vista degli artwork, devo dire che, in generale, prendendo anche gli artwork recenti, tutto sommato, così cacare, non mi fanno. Quindi un 6 glielo posso assolutamente dare. Dopo le divinità abbiamo Go-Go-Go. Go-Go-Go è uno di quei mazzi che va a supportare Ga-Ga-Ga, Dododo, insomma. Lo sapete, lo sapete, perché ne ho già parlato in passato. Ed è, sostanzialmente, l'archetipo che ho sfruttato un po' di più, perché, ovviamente, Gigas e Go-Go-Go-Go-Guanto, Dododo-Dodonano, li ho utilizzati in Adamantia nei suoi primi periodi, insomma. Poi, vabbè, li ho lasciati là, non li ho buttati. Però, comunque, non sono carte eccezionali. Vabbè, comunque, parliamo di questo archetipo, principalmente terra, che si basa principalmente, vabbè, io usavo Gigante Go-Go-Go e Golem Go-Go-Go quando ero piccolo, quindi non posso recensirli male. Cioè, ovviamente, dal punto di vista della competitività, letteralmente Go-Go-Go ha visto la sua poca competitività, competitività, grazie a questi due con Adamantia. ma, cioè, relativa competitività, mettiamola così, anche perché era un engine abbastanza a me. Competitivamente un disastro, due, dal punto di vista competitivo, semplicemente perché queste sono state abusate in Adamantia. Dal punto di vista degli artwork, non mi hanno mai fatto troppo impazzire, onestamente, Go-Go-Go, quindi, ok, gli vado a dare un due, dal punto di vista degli artwork. Dal punto di vista dello stile di gioco, pure lì, cioè, gli supporti recenti sono interessanti, ma gli altri fanno veramente uno peggio dell'altro. Forma dorata, una carta interessante, l'ho sbustata una volta, assolutamente, va bene così, però, cioè, non è manco nulla eccezionale. Numero 55, ho provato ad utilizzarlo in una Adamantia full roccia, full terra, full tutto. È carino pure lui, però, cioè, come ripartenza, però nulla è eccezionale. Dal punto di vista dello stile di gioco, gli do un 3, perché voglio essere buono, mettiamolo così. Successivamente abbiamo Stromberg, che, onestamente, io non ho mai conosciuto il nome di questo archetipo, effettivamente. Conosco Stromberg, Ex-Etrude, Prinzessin, la carrozza, e basta. E non so se ha effettivamente un nome come archetipo. Comunque, devo dire che è relativamente interessante come archetipo, però, ovviamente, la sua versione migliore è come engine per Grand Magio. Poco da dire. Il castello di Stromberg è bellissimo, Ex-Etrude è una carta abbastanza carina, molto bastarda. Poi abbiamo, vabbè, quello che ti attiva Stromberg, l'uccello che ti attiva Stromberg, che è carino, una carta simpatica, Prinzessin, la carrozza, che sono ok, però nulla di eccezionale. Dal punto di vista della competitività, non posso dargli un voto basso, perché comunque ha visto competitività, quindi un 4, secondo me, se lo merita. Grand Magio è stato competitivo con questo engine, e continua a esserlo anche se rogue al momento. Per quanto riguarda gli artwork, Ex-Etrude la trovo veramente bella, anche Stromberg, quindi secondo me tranquillamente un 5 glielo posso dare. Dal punto di vista dello stile di gioco, non è un mazzo che mi farei, in tutta onestà, cioè non è un engine che mi farei, quindi vado a dargli un 3, perché onestamente sì, carino, ma rimane SD, insomma. Dopo Stromberg abbiamo Golden Land, però io Eldritch l'ho già recensito, quindi andiamo avanti e andiamo su Gorgonico. Allora, Gorgonico molto interessante, perché lo conosco come mazzo, non perché sono delle carte low rarity, insomma, cioè le ho sbustate tutte per carità, però non per quello le conosco, le conosco perché ho pensato in un periodo di fare una versione di Adamantia con queste cartacce qua. Il punto è che queste carte hanno tutti effetti su normal praticamente, almeno quelle migliori, e fanno cacare in generale, a parte che sono tutte di livello dispari e per Adamantia non ci vanno bene, anche se però devo dire che il Guardiano Gorgonico ci avevo pensato ad inserirlo, perché è un negate. È un negate quick che si evoca con due livelli 3. Due livelli 3 roccia, precisiamo, quindi è ok. Vabbè, comunque in generale parliamo di un mazzo incompleto che fino ad ora non ha avuto supporti, Konami non ci ha manco pensato per sbaglio a dare supporti a questo mazzo, quindi, cioè, che cosa devo dire? Che è un mazzo che... non posso manco dire che promette bene, cioè, ci credete? Perché, ragazzi, il mazzo è lì, ha queste 4 carte di main deck, il mono Xyz di extra, basta, non c'è nient'altro. Per carità, tu evochi normalmente un mostro gorgonico, hai gargoli in mano, lo evochi special, fai guardiano, è il negate, io, fortissimo. Però, tra l'altro, il mostro che è negato, dato che non lascia il terreno, se il tuo avversario lo lascia sul terreno, tu puoi sempre, con guardiano gorgonico, spaccarlo, perché spacca i mostri con 0 di attacco sul terreno, quindi, ok. Comunque parliamo di questo mazzo che secondo me deve essere supportato. Competitivamente è 1-0, indubbiamente 0, schifo, abominevole, quindi, ok, vabbè, gli do 1, comunque, perché non ho mai dato 0 a nessun mazzo e non continuerò a non dare 0 perché nessun mazzo ha le porte chiuse matematicamente perché potrebbe avere supporto in futuro. Dal punto di vista degli artwork mi fanno alquanto cagare in tutta onestà, quindi gli vado a dare un 2. Dal punto di vista dello stile di gioco, cioè, che cosa vi devo dire? Provano ad avere il più possibile, il più velocemente possibile di vedere sul terreno per canare guardiano. 1. Mi dispiace. Non mi piace. Ultimo mazzo del giorno, finalmente parliamo di un mazzo che ha avuto un passato e potrebbe avere effettivamente un presente per quale motivo? perché è stato presentato il formato dove si possono giocare le carte soltanto uscite comuni e Gowki, di conseguenza, lì andrà a comandarsela insieme a Lunalight. Parliamo di questo mazzo Link Based che spamma l'inverosimile. È stato ultra meta nel 2018. Non ho nulla da dire su Gowki. Cioè, ragazzi, parliamo di un mazzo che incominciava a spammare roba, ti faceva firewalling, incominciava a andropparti la roba, extra link, negate vari ed eventuali. Era fortissimo Gowki e costava niente. Quindi un mazzo incredibile, un mazzo tutto guerriero, tutto terra e tutti i mostri che entrano letteralmente a cazzo di canare. Cioè, tutti che entrano a cazzo. è secondo me un mazzo per cominciare low budget. Volete un mazzo stra low budget? Un mazzo che vi permetta di giocare anche da subito a un local in maniera decente. Vi prenderete Nibiru nei denti che è proprio mamma mia la metà ne basta. Cioè, incomincerete a prendervi Nibiru come i bastardi. Però, ragazzi, secondo me Gowki è uno, divertente da giocare, due, e tra combo bellissimo e tre è un mazzo estremamente budget che vale la pena tirarsi su. Quindi, promossissimo Gowki. È stato meta, quindi dal punto di vista della competitività gli devo dare un 6 per forza, non posso dargli di meno anche perché secondo me in futuro tornerà come mazzo meta. Dal punto di vista dello stile di gioco interessantissimo, secondo me un sacco di gente all'epoca l'ho odiato. Io, fortunatamente, non ci ho mai giocato contro all'epoca contro Gowki perché nessuno giocava Gowki. Oddio, o ero troppo scarso e quindi i Gowki del mio local erano troppo alti in classifica rispetto a me oppure semplicemente la gente non lo voleva giocare poi fatto sta che è stato bannato Firewall e Gowki è calato un po' ha praticamente perso tutto il gioco la tier 1 che aveva quindi non ci ho mai fortunatamente giocato contro contro quella versione però so che è divertente da giocare come mazzo anche diversa gente che nel gruppo Telegram ve lo potrà dire insomma quindi Gowki come serie di gioco secondo me un 6 se lo merita come artwork sono bruttissimi tranne Suprex e Testa Tastarello Testa Tastrello come si chiama lui insomma sono gli unici sono tutti basati alla fine sul wrestling quindi già il wrestling non mi fa impazzire più di tanto sì Suprex è Testa Tastarello anche ma Ogre non è malissimo sì è caruccio lui gli altri non mi fanno impazzire quindi boh gli do un 4 dal punto di vista degli artwork però è un mazzo che in futuro secondo me varrà la pena tirarsi su perché anche per giocare semplicemente in common charity ha il suo perché detto questo ragazzi Darkham mi aveva perso di fuoco per un attimo signori ditemi cosa ne pensate di questi mazzi dei quali abbiamo parlato oggi qua sotto nei commenti aspetto i vostri commenti e le vostre idee noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video ciao ragazzi ciao 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 ciao